DJI! Siamo venuti a vedere! Io e Jeanne abbiamo bisogno di concentrazione! Ho finito! Allora, che cosa ne pensate? Cari, Dada! Sono meravigliosi! Sono bellissimi! Ecco a te. È stata un'idea fantastica. Sì, grazie mille, ragazzi. Ho un nuovo paio d'occhiali da dare al nonno per il compleanno. La 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 la... No! Fermati! Torna indietro! Fermati! È il regalo per mio nonno! Aspetta! No! Il pacco regalo! Eccolo lì! Non posso muovermi! Che cosa farò ora? Aiutatemi! Qualcuno mi sente? Oh, signor Baffo! Auguri di buon compleanno! Oh, grazie, Gin! Dimmi, per caso Mini è ancora lì? Se n'è andata un paio di ore fa! Sul serio? Allora dovrebbe essere tornata da un bel po'. Mini non è ancora tornata! Non è un buon segno! Lo so! E se fosse capitato qualcosa di terribile a mia nipote? Non si preoccupi, signor Baffo! Andremo a cercare Mini! Dividiamoci! La troveremo prima! Agli ordini! Mini! Qualcuno mi aiuti! Mini! Polly! Vicino allo stagno non c'è! E non l'ho trovata nemmeno nel centro della città! D'accordo, allora dobbiamo cercare altrove! Sì, ragazzi! L'ho trovata! Sedicesima strada sulla collina! Va bene! Acceleriamo! Agli ordini! Sì, ragazzi! Eccoli là! Andiamo! Mini, stai bene? Tiratemi fuori! È rimasta incastrata tra le rocce e non riesce a muoversi! Roy, abbiamo delle rocce da spostare! D'accordo! Pronto? Pronto! Va bene, al mio tre! Uno, due, tre! Wow, ce l'avete fatta! Grazie infinite! È lei! Eccomi qui, nonno! Mi dispiace tanto! Ero così preoccupato, ma ora sei a casa! Ma è successa una cosa orribile! Il tuo regalo è in mille pezzi! Deve sapere che Mini e Jin si erano date da fare! Volevo regalarti degli occhiali per il tuo compleanno per farti vedere meglio! Mini, vuoi sapere qual è il regalo più bello del mondo per tuo nonno? Qual è? Tu, piccola mia, non puoi sapere quanto sia contento che tu sia a casa! Ma davvero? Sì, certo! Che cosa farei io senza il tuo bel sorriso? Grazie di averla salvata! È il nostro obiettivo! Grazie a tutti!